Il SINGENTA Il SINGENTA già da diversi anni punta a offrire delle soluzioni che non sono il singolo prodotto ma sono un pacchetto di soluzioni integrate che guardano in maniera molto attenta alla sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda le applicazioni, da circa 30 anni abbiamo un servizio posto per quanto riguarda la cosiddetta application technology che cura tutti gli aspetti della tecnologia per una corretta applicazione dell'agrofarmaco. Noi abbiamo dei brand consolidati già da diverso tempo che sono leader di mercato per quanto riguarda la protezione dei nostri fruttetti. Abbiamo dei prodotti estremamente validi e competitivi sul mercato che danno un'ampia garanzia di protezione della cultura stessa. Per quanto riguarda la formazione, tutti questi progetti vengono racchiusi in tutta una serie di progetti di formazione che noi facciamo sul territorio proprio per cercare di migliorare la conoscenza di tutti gli operatori, sia tecnici che aziende agricole. Grazie a tutti!